Ben trovati all'appuntamento con voto in comune l'approfondimento politico di MTV Radio Nuova in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. Ospite con me in studio la candidata Lavigna Bianchi per la lista Siamo Civitanova, sostegno di Silvia Squadroni, sindaco. Benvenuta. Grazie. Prima domanda per te, una breve presentazione per conoscerti meglio. Sì, allora sono Lavinia, ho 24 anni e sono Civitanovese Doc, infatti la mia famiglia è una famiglia storica Civitanovese nel settore della cantieristica. Sono stata del tempo a studiare a Milano, infatti sono dottoressa in arti, esame e spettacolo e adesso sto concludendo la magistrale in comunicazione e proprio per questo ho deciso di candidarmi come consigliere comunale perché la comunicazione a Civitanova non è né trasparente e al tempo stesso deve essere incentivata con l'utilizzo per esempio di influencer, di social media e quindi ho deciso di intraprendere questa avventura. Quindi è la prima esperienza a livello politico per te? Sì, è la mia prima esperienza politica e ho deciso anche di mettermi in gioco proprio perché ho fatto un tirocinio nella rappresentanza a Milano della Commissione Europea e ritengo che sia fondamentale portare a Civitanova una cultura europea di quelli che sono i diritti e i valori e soprattutto della necessità che ha la città di recuperare quelli che sono i fondi europei perché per noi ragazzi ce ne sono tanti, basta solo saperli prendere. La lista Siamo Civitanova all'interno della coalizione di Silvia Squadroni, che valori rappresenta tra le quattro liste? Allora, Siamo Civitanova è la lista iniziale di Silvia, un progetto che inizia già da ottobre quindi Silvia diciamo che è in campagna elettorale da un po' e la grande capacità che ha avuto Silvia è stata quella di creare un gruppo transgenerazionale infatti abbiamo diverse età che fondamentalmente poi si incontrano in quelle che sono idee e programmi condivisi e questo è un valore aggiunto soprattutto per il fatto che ci sono persone davvero competenti non solo a livello proprio professionale o anche diciamo di laureati ma proprio perché hanno una passione per la loro città e penso e riteniamo tutti che questo sia la base fondamentale infatti Siamo Civitanova riprende proprio quello che è il concetto dell'amore per la propria città che è un amore che deve essere non vincolato da interessi personali E all'interno della lista e della coalizione il programma, il lavoro che proprio come gruppo Next Gen avete fatto per stilare quelle che possono essere le priorità alla vostra visione della Civitanova del futuro? Sì, il gruppo Next Gen nasce con la volontà di far capire che i giovani non sono estranei alla politica per quanto la politica ultimamente sembri essere materia raccapricciante e molto spesso le persone decidono di scostarsi al tema e quindi anche di non andare a votare con la Next Gen abbiamo voluto sottolineare il fatto che noi siamo pronti abbiamo messo la faccia diciamo proprio perché il futuro è nelle nostre mani noi abbiamo una mentalità un po' più aggiornata rispetto ai dinosauri della politica e quindi vogliamo costruire quello che sarà il nostro futuro e quello delle nuove generazioni che dalla politica sono molto molto distanti purtroppo In particolare alcuni punti del programma puoi raccontarci? Per la vigna il punto fondamentale e la prima cosa per cui mi metterò corpo e anima diciamo è il Museo del Mare un museo del mare che però non sia semplicemente un luogo espositivo ma che diventi un punto di studio, di smart working con wifi gratis dove appunto i ragazzi possono riunirsi non solo per studiare ma anche per coltivare quella che è la creatività che è fondamentale venga appunto ripresa a Civitanova quella che è la libertà creativa un punto quindi dove diventerà fondamentale anche riprendere quello che è il discorso dell'arte contemporanea perché a Civitanova è quasi totalmente mancante dove i ragazzi civitanovesi possono per esempio esibirsi proprio perché ci immaginiamo perlomeno nel porto nei grandi spazi del porto questo capannone, un hangar come quello che è l'hangar Bicocca a Milano dove appunto la grande planimetria del capannone permetta di utilizzare gli spazi al meglio per qualsiasi diciamo ambito di interesse giovanile Prima parlavi delle PNRR e quindi anche in questo il legame con gli obiettivi per la Next Gen quindi quanto è importante per Civitanova e per il vostro programma? Certo, infatti Next Gen si riferisce proprio al Next Generation EU quindi la fonte del PNRR il PNRR purtroppo non è stato preso in considerazione a Civitanova e quindi è necessario creare progetti affinché appunto possiamo accedere a questi fondi e i bandi, comunque molti bandi sono scaduti al tempo stesso però ci sono molti fondi europei tolti quelli del PNRR che permettono appunto ai ragazzi con progetti di vedere questi progetti in realtà e fondamentale quindi nel nostro programma è l'istituzione di quello che è un ufficio Europa istituzione, parliamo di istituzione proprio perché nonostante le polemiche che ci sono state fatte mettere una targhetta fuori dalla porta e scrivere ufficio Europa e poi non ritrovarlo neanche nel documento di programmazione unica del comune non significa avere un ufficio Europa competente che riesca a intercettare i fondi per tutta la popolazione quindi questa è una priorità istituire l'ufficio Europa come è stata per voi fino a questo momento questa campagna elettorale una campagna transgenerazionale avete parlato quindi a tutte le generazioni o più ai giovani? allora noi ci siamo divertiti a differenza di probabilmente tanti altri perché quello che abbiamo visto durante questa campagna elettorale è che la cattiveria umana veramente non ha limite per esempio a me è stata forata una gomma della macchina ancora non abbiamo capito quale sia stata la dinamica a distanza di molto tempo quindi in buona fede diciamo che sia stato un atto vandalico abbiamo visto gli hater su Facebook davvero pesanti soprattutto nei confronti anche di noi ragazzi non perché siamo giovani dobbiamo essere portati magari in benevolenza però comunque abbiamo notato come effettivamente un cambiamento di questo sistema sia difficile da portare avanti dall'altra parte con Silvia che è una persona meravigliosa ci siamo veramente divertiti abbiamo fatto quello che è il casa casa letteralmente per stare tra la gente e sentire quello di cui la gente effettivamente ha bisogno indipendentemente dall'età abbiamo provato a dialogare con i giovani spesso prendendo un due di picche purtroppo perché serve e è necessario cambiare affinché magari fra 5 anni alle prossime amministrative il gruppo giovani dipendentemente dalla parte politica riesca ad allargarsi creando quella consapevolezza che il futuro è nelle nostre mani purtroppo la politica purtroppo resterà fondamentalmente sempre perché l'amministrazione è quella che accompagna tutte le nostre vite dunque un'ultima riflessione come è stata invece questa campagna elettorale appunto poi detto sulla cattiveria tra i sei candidati sindaco invece che confronto hai visto consiglio ecco sono 24 liste 516 aspiranti consigliere comunale di consiglieri ne siamo veramente tanti infatti io sottolineo che si può fare il voto disgiunto io batto sempre su questo voto disgiunto perché nonostante il grande numero di candidati chi si vota poi all'amministrative è la persona e personalmente rispetto agli altri candidati sia a livello di età sia a livello di preparazione sia a livello proprio umano ritengo che Silvia sia la migliore che possa rappresentare la nostra città al tempo stesso ho visto tra gli altri candidati comunque una guerra fondamentalmente perché questa è una guerra sembra proprio essere una guerra all'ultimo sangue infatti soprattutto noi ragazzi non vediamo l'ora di arrivare lunedì 13 per sapere l'esito della battaglia di Civitanova del 2022 grazie davvero per questa intervista a Lavigna Bianchi candidata con Si amo Civitanova per Silvia Squadroni sindaco grazie grazie a voi che ci avete seguito grazie a voi